Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campana per non perdere nessun video. Per favore siate gentili con lei. Sara, per favore, puoi presentarti brevemente. Con piacere, maestro Kunze. Il mio nome è Sara Meyer. Ho nove anni e vivo a Monaco. Ho traslocato due settimane fa. Ho traslocato due settimane fa. Meraviglioso. Sara, puoi sederti. Meraviglioso. Sara, puoi sederti. Dovete preparare una lezione. Dovete preparare una lezione. Lavorerete in gruppo. Lavorerete in gruppo. Per favore trovate subito un partner. Per favore trovate subito un partner. Ehi, Moritz, vuoi lavorare insieme a me? Ehi, Moritz, vuoi lavorare insieme a me? Con piacere, Julian. Siamo una bella squadra. Con piacere, Julian. Siamo una bella squadra. Allora anche noi lavoriamo insieme, vero? Allora anche noi lavoriamo insieme, vero? Con piacere, con piacere. Come ti chiami? Come ti chiami? Io sono Lisa. Io sono Lisa. Piacere di conoscerti Lisa. Io sono Sara. Piacere di conoscerti Lisa. Io sono Sara. Sono felice di essere in gruppo con te. Sono felice di essere in gruppo con te. Anch'io sono felice. Anch'io sono felice. Dovete preparare una lezione insieme. Dovete preparare una lezione insieme. Dovete presentare la storia di Monaco. Dovete presentare la storia di Monaco. La lezione dura dieci minuti. La lezione dura dieci minuti. Ognuno di voi dovrebbe parlare per circa cinque minuti. Avete una settimana di tempo. Avete una settimana di tempo. Ci vediamo domani a casa mia? Ci vediamo domani a casa mia? Lì possiamo preparare la lezione. Lì possiamo preparare la lezione. Mi piacerebbe molto. Verrò da te dopo la scuola. Mi piacerebbe molto. Verrò da te dopo la scuola. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Sara vive in via Maximilian numero dodici. Sara vive in via Maximilian numero dodici. Ora andrò da lei. Ora andrò da lei. Questa dovrebbe essere la casa di Sara. Questa dovrebbe essere la casa di Sara. Sono un po' in ritardo. Spero che non sia arrabbiata. Spero che non sia arrabbiata. Ciao Sara. Scusa il ritardo. Ciao Sara. Scusa il ritardo. Nessun problema Lisa. Nessun problema Lisa. Hai una bella casa. Hai una bella casa. Grazie. Questa è la casa delle vacanze di mio padre. Grazie. Questa è la casa delle vacanze di mio padre. Andiamo nella tua stanza a lavorare sulla lezione? Andiamo nella tua stanza a lavorare sulla lezione? Non è necessario. Non è necessario. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Ho già finito. Ho già finito. Hai già fatto tutta la lezione? Hai già fatto tutta la lezione? Esattamente. Ieri ho fatto tutto. Esattamente. Ieri ho fatto tutto. Cosa dovrei fare ora? Cosa dovrei fare ora? Non devi fare niente. Non devi fare niente. Devi solo leggere la tua parte. Devi solo leggere la tua parte. Te la darò domani a scuola. Te la darò domani a scuola. Super. Grazie mille, Sara. A domani. Super. Grazie mille, Sara. A domani. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Buongiorno, cari studenti. Buongiorno, cari studenti. Oggi presenterete le vostre lezioni. Oggi presenterete le vostre lezioni. Sono già molto curioso. Sono già molto curioso. Lisa e Sara, iniziate voi, per favore. Lisa e Sara, iniziate voi, per favore. Ehi, Sara, puoi darmi il mio testo, per favore? Ehi, Sara, puoi darmi il mio testo, per favore? Non ho nessun testo, per te. Non ho nessun testo, per te. Ma me l'avevi promesso. Ma me l'avevi promesso. Ti ho ingannata. Ti ho ingannata. Cosa sta succedendo lì davanti? Cosa sta succedendo lì davanti? Lisa non ha preparato il suo testo. Lisa non ha preparato il suo testo. Maestro Kunze, posso spiegare? Maestro Kunze, posso spiegare? Basta così. Basta così. Lisa, hai preso sei. Lisa, hai preso sei. Mi dispiace per l'inconveniente Sara. Naturalmente prenderai un uno. Mi dispiace per l'inconveniente Sara. Naturalmente prenderai un uno. Quanto deve durare la presentazione degli studenti? A. Cinque minuti. B. Dieci minuti. C. Quindici minuti. Quanto deve durare la presentazione degli studenti? A. Cinque minuti. B. Dieci minuti. C. Quindici minuti. Cosa c'è che non va, Lisa? Perché stai piangendo? Cosa c'è che non va, Lisa? Perché stai piangendo? C. Il maestro Luigi mi ha dato un due oggi. Il maestro Luigi mi ha dato un due oggi. Cosa un altro due? Cosa un altro due? C. Com'è successo? C. Com'è successo? C. Sara mi ha incastrata. C. Sara mi ha incastrata. C. Non conosco affatto Sara. C. È nuova? C. Non conosco affatto Sara. C. È nuova? C. Sì, è nuova ed è cattiva. C. Sì, è nuova ed è cattiva. C. Sì, è nuova ed è cattiva. C. Come ti ha incastrata? C. Come ti ha incastrata? C. Mi ha mentito. C. Mi ha mentito. C. Questa non è una bella cosa. C. Questa non è una bella cosa. C. Parlerò con il maestro Luigi. C. Parlerò con il maestro Luigi. C. Ti prego, aiutami papà. C. Ti prego, aiutami papà. C. Non preoccuparti Lisa, andrà tutto bene. C. Non preoccuparti Lisa, andrà tutto bene. C. Lisa non può prendere un altro due. C. Lisa non può prendere un altro due. C. Questa volta la colpa non è sua. C. Questa volta la colpa non è sua. C. Il maestro Luigi deve darle un'altra possibilità. C. Il maestro Luigi deve darle un'altra possibilità. C. Lo convincerò. C. Lo convincerò. C. In realtà Lisa è una ragazza adorabile. C. In realtà Lisa è una ragazza adorabile. C. Questa è la scuola di Lisa. C. Questa è la scuola di Lisa. C. Andrò nell'ufficio del maestro Luigi. C. Andrò nell'ufficio del maestro Luigi. C. Non ha fatto la sua presentazione. C. Per favore le dia un'altra possibilità. C. Per favore le dia un'altra possibilità. C. Non è stata colpa sua. C. Non è stata colpa sua. C. Allora di chi è la colpa? C. Allora di chi è la colpa? C. Di Sara. C. Di Sara. C. Sara è una bravissima studentessa. C. Sarà è una bravissima studentessa. C. Non ha fatto nulla di male. C. Non ha fatto nulla di male. C. Lisa dice che Sara sta mentendo. C. Lisa dice che Sara sta mentendo. C. Non riesco a immaginarlo. C. Non riesco a immaginarlo. C. Come può Lisa avere un'altra possibilità? C. Come può Lisa avere un'altra possibilità? C. Solo se Sara ammette la sua menzogna. C. Solo se Sara ammette la sua menzogna. C. Ho capito tutto. Grazie mille, maestro Luigi. C. Ho capito tutto. Grazie mille, maestro Luigi. C. Parlerò con i genitori di Sara. C. Parlerò con i genitori di Sara. C. È l'unica opzione possibile. C. È l'unica opzione possibile. C. Qui si trova la casa della famiglia russo. C. Qui si trova la casa della famiglia russo. C. Spero che il padre di Sara sia gentile. C. Spero che il padre di Sara sia gentile. C. Chi è lei? E cosa ci fa qui? C. Chi è lei? E cosa ci fa qui? C. Salve, signor russo. Sono il signor Petrucci. C. Salve, signor russo. Sono il signor Petrucci. C. Sono il padre di Lisa. C. Sono il padre di Lisa. C. E cosa vuole da me? C. E cosa vuole da me? C. Vorrei parlarle di Sara. C. Vorrei parlarle di Sara. C. Cosa vuole da mia figlia? C. Cosa vuole da mia figlia? C. Mia figlia Lisa ha preso un 2 ieri. C. Mia figlia Lisa ha preso un 2 ieri. C. Cosa c'entra Sara? C. Cosa c'entra Sara? C. Sara ha mentito a mia figlia. C. Sara ha mentito a mia figlia. C. Non può essere. Sara è sempre onesta. C. Non può essere. Sara è sempre onesta. C. Sara, quest'uomo sostiene che tu abbia mentito. C. Sara, quest'uomo sostiene che tu abbia mentito. C. E' vero? C. Sì, papà. Ho mentito. C. Sì, papà. Ho mentito. C. Perché hai fatto una cosa del genere? C. Perché hai fatto una cosa del genere? C. Perché ho preso un 10 per questo. C. Perché ho preso un 10 per questo. C. Capisco. C. Quindi hai approfittato di Lisa. C. Capisco. C. Quindi hai approfittato di Lisa. C. E hai raggiunto i tuoi obiettivi grazie a questo? C. Sì. C. Ben fatto. Questa è mia figlia. C. Ben fatto. Questa è mia figlia. C. Come? Scusi? C. Pensa che sia una buona cosa? C. Come? Scusi? C. Pensa che sia una buona cosa? C. Racconterò tutto al maestro Luigi. C. Racconterò tutto al maestro Luigi. C. Nessuno le crederà. C. Nessuno le crederà. C. Ci saranno ripercussioni. C. Ci saranno ripercussioni. Lisa, sei così premurosa? C. Lisa, sei così premurosa? C. Cosa sta succedendo? C. Cosa sta succedendo? C. Papà, devo vendicarmi di Sara in qualche modo? C. Papà, devo vendicarmi di Sara in qualche modo? C. Hai idea di cosa possa fare? C. Hai idea di cosa possa fare? C. Lasciami pensare per un momento. C. Lasciami pensare per un momento. C. Che cos'è più importante per Sara? C. Che cos'è più importante per Sara? C. Le piacciono i buoni voti? C. Le piacciono i buoni voti? C. Dobbiamo sfruttare questa cosa. C. Dobbiamo sfruttare questa cosa. C. Devo ingannarla. C. Devo ingannarla. C. Ho un'idea. C. Ho un'idea. C. Sara è nuova nella scuola, giusto? C. Sara è nuova nella scuola, giusto? C. Sì, è nuova nella nostra classe. C. Sì, è nuova nella nostra classe. C. Quindi non sa che lunedì c'è una verifica. C. Quindi non sa che lunedì c'è una verifica. C. Sì, lo sa. C. Sì, lo sa. C. Ma non conosce l'argomento. C. Ma non conosce l'argomento. C. Molto bene. C. Molto bene. C. Le daremo informazioni false. C. Le daremo informazioni false. C. Mentiremo a Sara? C. Mentiremo a Sara? C. Sì, come lei ha mentito a te. C. Sì, come lei ha mentito a te. C. E perché dovrebbe credermi? C. E perché dovrebbe credermi? C. Non lo farà. C. L'informazione deve provenire da qualcun altro. C. Non lo farà. C. L'informazione deve provenire da qualcun altro. C. So come fare. C. Il giorno dopo. C. Ehi, Michele, dimmi cosa ne pensi di Sara? C. Ehi, Michele, dimmi cosa ne pensi di Sara? C. Non mi piace. C. Non mi piace. C. Non piace neanche a me. C. Non piace neanche a me. C. Lei è cattiva. C. Lei è cattiva. C. Ho un'idea su come vendicarci di lei. C. Ho un'idea su come vendicarci di lei. C. Come possiamo farlo? C. Come possiamo farlo? C. La inganneremo. C. La inganneremo. C. Diremo che lunedì faremo la verifica di storia. C. Ma lunedì abbiamo la verifica di matematica. C. Ma lunedì abbiamo la verifica di matematica. C. Buona idea. C. Buona idea. C. Attenzione! Sta arrivando! C. Attenzione! Sta arrivando! C. Attenzione! Sta arrivando! C. Ehi, Simone! Hai già studiato per la verifica? C. Sì, sto studiando da una settimana. C. Sì, la verifica sarà davvero difficile. C. Intendi la verifica di matematica? C. No, lunedì non abbiamo matematica. C. Stiamo parlando della verifica di storia. C. Stiamo parlando della verifica di storia. C. Cosa faremo una verifica di storia? C. Cosa faremo una verifica di storia? C. Sì, c'è molto da imparare. C. Sì, c'è molto da imparare. C. Grazie, non lo sapevo affatto. C. Grazie, non lo sapevo affatto. C. Nessun problema. Siamo felici di aiutarti, Sara. C. Nessun problema. Siamo felici di aiutarti, Sara. C. Lunedì. C. Lunedì. C. Buongiorno, cari studenti. C. Spero che abbiate studiato molto. C. Spero che abbiate studiato molto. C. Oggi faremo una verifica molto importante. C. Oggi faremo una verifica molto importante. C. La materia è matematica. C. La materia è matematica. C. Ma pensavo che avremmo fatto una verifica di storia. C. Ma pensavo che avremmo fatto una verifica di storia. C. Chi l'ha detto? C. Chi l'ha detto? C. Michele, Simone e Lisa. C. Michele, Simone e Lisa. C. È così, Michele? C. È così, Michele? C. No, non abbiamo detto nulla a riguardo. C. No, non abbiamo detto nulla a riguardo. C. Sara, iniziamo subito il test. C. Non mi interessa se hai studiato o no. C. Avete sessanta minuti. C. Avete sessanta minuti. C. Sessanta minuti dopo. C. Sessanta minuti dopo. Cosa c'è che non va, Sara? Perché stai piangendo? C. Sicuramente prenderò un 2 nella verifica. C. Sicuramente prenderò un 2 nella verifica. C. Perché mi hai mentito? C. Perché mi hai mentito? C. Non avresti dovuto metterti contro di me. C. Non avresti dovuto metterti contro di me. C. Ecco cosa si ottiene. C. Ecco cosa si ottiene. C. La vendetta è dolce. C. La vendetta è dolce. C. Buongiorno, cari studenti. C. Buongiorno, cari studenti. C. La verifica della scorsa settimana è andata bene. C. Tutti gli studenti hanno ottenuto la sufficienza. C. Tutti gli studenti hanno ottenuto la sufficienza. C. Tranne Sara. C. Tranne Sara. C. Gli altri mi hanno ingannato, maestro Luigi. C. Gli altri mi hanno ingannato, maestro Luigi. C. È acqua passata. C. È acqua passata. C. Concentriamoci sul prossimo progetto. C. Bisogna imparare a lavorare in gruppo. C. Bisogna imparare a lavorare in gruppo. C. Non si possono risolvere tutti i problemi da soli. C. Ecco perché ora lavorerete in gruppi di due. C. Dovete fare un video sull'altra persona. C. Dovete fare un video sull'altra persona. C. Nel video si deve presentare il compagno. C. Nel video si deve presentare il compagno. C. Michele e Sergio lavorerete in gruppo. C. Adoro lavorare con te, Sergio. C. Anche a me piace lavorare con te, Michele. C. Anche a me piace lavorare con te, Michele. C. Lisa, tu lavorerai con Sara. C. Maestro Luigi. Non voglio lavorare con Sara. C. Maestro Luigi. Non voglio lavorare con Sara. C. Nemmeno io voglio lavorare con Lisa. C. Nemmeno io voglio lavorare con Lisa. C. Non mi piace. C. Non mi piace. C. Neanche tu mi piaci, Sara. C. Neanche tu mi piaci, Sara. C. Smettetela di litigare. C. Smettetela di litigare. C. Lavorerete insieme. C. Lavorerete insieme. C. Che vi piaccia o no. C. Che vi piaccia o no. C. Non credo che abbiamo scelta, Sara. C. Non credo che abbiamo scelta, Sara. C. Temo di no. C. Ci vediamo domani a casa mia. C. Temo di no. C. Ci vediamo domani a casa mia. C. Facciamo in modo da finire il prima possibile. C. No, siamo andate da te l'ultima volta. No, siamo andate da te l'ultima volta. Vediamoci domani a casa mia dopo la scuola. Ok, sono d'accordo. Il giorno dopo. Ciao Sara, benvenuta nella nostra casa. Salve signor Petrucci, grazie mille per l'invito. Dai, ho fatto i pancake. Che delizia, non mi è permesso mangiare i pancake a casa. Grazie, papà. Wow, il sapore è davvero delizioso. Wow, il sapore è davvero delizioso. Mio padre fa i migliori pancake. Allora Sara, devo fare un video su di te. Allora Sara, devo fare un video su di te. Parlami di te. Parlami di te. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Studio per la scuola. Studio per la scuola. Non hai nessun hobby? Non hai nessun hobby? No, non ho tempo. No, non ho tempo. Ho bisogno di buoni voti, dice mio padre. Ho bisogno di buoni voti, dice mio padre. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Mi piace nuotare. Mi piace nuotare. A volte io e mio padre guardiamo dei film insieme. A volte io e mio padre guardiamo dei film insieme. Oppure usciamo a prendere un gelato. Oppure usciamo a prendere un gelato. Sembra davvero divertente. Sembra davvero divertente. Purtroppo mio padre non ha tempo per questo. Purtroppo mio padre non ha tempo per questo. Lui lavora e basta. Lui lavora e basta. E tua madre? E tua madre? Mia madre vive negli Stati Uniti. Mia madre vive negli Stati Uniti. Mi dispiace. Mi dispiace. Grazie, Lisa. Grazie, Lisa. Credo di doverti delle scuse. Quello che ho fatto non è stato giusto. Quello che ho fatto non è stato giusto. Ti ho mentito per ottenere un buon voto. Ti ho mentito per ottenere un buon voto. Non avrei dovuto fare una cosa del genere. Non avrei dovuto fare una cosa del genere. Mi dispiace molto, Lisa. Mi dispiace molto, Lisa. Accetto le tue scuse. Accetto le tue scuse. Anche quello che ho fatto io non è stato bello. Anche quello che ho fatto io non è stato bello. Volevo disperatamente vendicarmi. Volevo disperatamente vendicarmi. Ma ti ho giudicata male. Ma ti ho giudicata male. Vuoi che siamo amiche? Vuoi che siamo amiche? Sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico. Grande. Allora forza, giriamo subito il video. Grande. Allora forza, giriamo subito il video. Buongiorno, Sara. Buongiorno, Sara. Ciao, Lisa. Come stai? Ciao, Lisa. Come stai? Così, così. Non ho dormito molto bene. Così, così. Non ho dormito molto bene. Neanche io. Non ho affatto voglia di andare a scuola. Non ho affatto voglia di andare a scuola. Trovo le lezioni noiose. Trovo le lezioni noiose. Ho un'idea. Ho un'idea. Che idea? Che idea? Andiamo al cinema invece che a scuola. Andiamo al cinema invece che a scuola. Cosa? Vuoi davvero farlo? Cosa? Vuoi davvero farlo? Sì, lo faccio spesso. Sì, lo faccio spesso. Sei sicura? Non ci scopriranno? Sei sicura? Non ci scopriranno? Non succederà. Non preoccuparti, Sara. Non succederà. Non preoccuparti, Sara. Ok, mi fido di te. Ok, mi fido di te. Allora andiamo. Allora andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, come posso aiutarti? Vorremmo andare a vedere il nuovo film per bambini, per favore. Sei abbastanza grande per andare al cinema da sola? Sei abbastanza grande per andare al cinema da sola? Sì, abbiamo già dodici anni. Sì, abbiamo già dodici anni. Va bene, sono dodici euro e cinquanta, per favore. Va bene, sono dodici euro e cinquanta, per favore. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, godetevi il film. Sì, tutti gli altri, grazie mille, 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 grazie mille le otto entrambe non ci sono entrambe non ci sono michele sai dove si trovano michele sai dove si trovano non lo so mi dispiace maestro luigi non lo so mi dispiace maestro luigi è strano chiamerò i loro genitori salve signor petrucci sono il maestro luigi l'insegnante di risa salve signor petrucci sono il maestro luigi l'insegnante di risa salve maestro luigi cosa posso fare per lei salve maestro luigi cosa posso fare per lei può dirmi dove lisa può dirmi dove lisa pensavo fosse a scuola pensavo fosse a scuola no non è qui no non è qui è strano è strano la troverò grazie per avermi chiamato la troverò grazie per avermi chiamato ora chiamerò il padre di sara ora chiamerò il padre di sara salve signor russo sono il maestro luigi l'insegnante di sara salve signor russo sono il maestro luigi l'insegnante di sara buongiorno maestro luigi perché mi disturba al lavoro buongiorno maestro luigi perché mi disturba al lavoro sa dove si trova sara sa dove si trova sara non è con lei non è con lei no sara non è qui no sara non è qui com'è possibile com'è possibile stamattina l'ho accompagnata a scuola stamattina l'ho accompagnata a scuola non lo so non lo so troverò sara troverò sara tre ore dopo tre ore dopo lisa dove sei stata lisa dove sei stata ciao papà ero a scuola ciao papà ero a scuola perché me lo chiedi perché me lo chiedi perché il maestro luigi mi ha chiamato perché il maestro luigi mi ha chiamato oh no oh no cos'hai da dire lisa cos'hai da dire lisa sono andata al cinema con sara sono andata al cinema con sara basta così basta così sei in punizione per una settimana sei in punizione per una settimana ciao papà ciao papà com'è andata a scuola com'è andata a scuola è andata bene è andata bene non mentirmi il tuo insegnante mi ha chiamato non mentirmi il tuo insegnante mi ha chiamato dov'eri dov'eri sono andata al cinema con lisa sono andata al cinema con lisa sul serio sul serio questa ragazza non ha una buona influenza su di te questa ragazza non ha una buona influenza su di te ti proibisco di avere qualsiasi contatto con lei ti proibisco di avere qualsiasi contatto con lei ma papà lei è la mia unica amica ma papà lei è la mia unica amica queste sono le mie ultime parole queste sono le mie ultime parole buongiorno cari studenti buongiorno cari studenti oggi voglio presentarvi una persona oggi voglio presentarvi una persona lui è Marco è nuovo qui lui è Marco è nuovo qui Marco si unirà alla nostra classe d'ora in poi Marco si unirà alla nostra classe d'ora in poi ricordatevi di essere gentili con lui ricordatevi di essere gentili con lui grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi sono felice di essere qui sono felice di essere qui molto bene puoi sederti Marco molto bene puoi sederti Marco ciao sono Marco ciao sono Marco come ti chiami? come ti chiami? il mio nome è Lisa il mio nome è Lisa da dove vieni Marco? da dove vieni Marco? io sono di Colonia io sono di Colonia che bello amo Colonia che bello amo Colonia Lisa e Marco per favore smettete di parlare Lisa e Marco per favore smettete di parlare disturbate la lezione disturbate la lezione mi scusi maestro Luigi mi scusi maestro Luigi non accadrà più non accadrà più molto bene allora a che punto eravamo arrivati? molto bene allora a che punto eravamo arrivati? vi stavo parlando di matematica vi stavo parlando di matematica cavolo questo insegnante è davvero noioso cavolo questo insegnante è davvero noioso sì lui è il maestro Luigi è il nostro insegnante di matematica sì lui è il maestro Luigi è il nostro insegnante di matematica purtroppo è molto noioso purtroppo è molto noioso cosa fai nel tempo libero? cosa fai nel tempo libero? mi piace mangiare il gelato e andare al cinema e a te? mi piace mangiare il gelato e andare al cinema e a te? lisa e marco ve lo dico un'altra volta lisa e marco ve lo dico un'altra volta smettete subito di chiacchierare smettete subito di chiacchierare altrimenti vi mando in punizione altrimenti vi mando in punizione non l'abbiamo fatto di proposito maestro Luigi non l'abbiamo fatto di proposito maestro Luigi la smettiamo subito lo prometto la smettiamo subito lo prometto è l'ultima volta è l'ultima volta è davvero molto importante che è davvero molto importante che è sempre così severo? è sempre così severo? sì con il maestro Luigi non si scherza sì con il maestro Luigi non si scherza devo ricordarlo non voglio problemi devo ricordarlo non voglio problemi lisa e marco basta così oggi sarete entrambi in punizione oggi sarete entrambi in punizione per favore no maestro Luigi per favore no maestro Luigi è il mio primo giorno è il mio primo giorno non voglio sentire scusa non voglio sentire scusa sarete entrambi in punizione sarete entrambi in punizione rimarrete qui per altre due ore rimarrete qui per altre due ore non voglio sentirvi non voglio sentirvi state zitti e fate i compiti state zitti e fate i compiti potete andare via tra due ore potete andare via tra due ore ci dispiace molto maestro Luigi ci dispiace molto maestro Luigi basta con le scuse basta con le scuse basta con le scuse basta con le scuse maestro Luigi è tutta colpa mia maestro Luigi è tutta colpa mia ho distratto Lisa ho distratto Lisa non ho potuto farne a meno non ho potuto farne a meno non mi interessa ora rimarrete seduti per altre due ore non mi interessa ora rimarrete seduti per altre due ore forse allora imparerete forse allora imparerete qualche ora dopo qualche ora dopo c'è voluto molto tempo c'è voluto molto tempo puoi dirlo forte puoi dirlo forte è stato un primo giorno difficile è stato un primo giorno difficile dovremmo smettere di parlare così tanto durante le lezioni del maestro luigi dovremmo smettere di parlare così tanto durante le lezioni del maestro luigi hai ragione hai ragione è meglio non farlo più è meglio non farlo più cosa intenzione di fare ora cosa intenzione di fare ora vado a casa e tu vado a casa e tu sì anch'io sì anch'io volevo chiederti una cosa volevo chiederti una cosa ti piacerebbe andare a prendere un gelato insieme ti piacerebbe andare a prendere un gelato insieme vorrei scusarmi con te vorrei scusarmi con te è una buona idea è una buona idea bene allora ci vediamo domani dopo la scuola bene allora ci vediamo domani dopo la scuola con piacere ciao marco con piacere ciao marco ciao lisa ciao lisa per quanto tempo lisa e marco dovranno rimanere in punizione a due ore b quattro ore c sei ore buongiorno cari studenti buongiorno cari studenti oggi ho un appuntamento importante oggi ho un appuntamento importante non posso fare lezione non posso fare lezione un altro insegnante le terrà al mio posto un altro insegnante le terrà al mio posto il suo nome è maestra sarà il suo nome è maestra sarà è molto gentile è molto gentile è molto gentile vi piacerà vi piacerà ora devo andare ora devo andare buongiorno cari studenti buongiorno cari studenti sono la maestra sarà sono la maestra sarà sono la supplente del maestro luigi sono la supplente del maestro luigi oggi farete lezione con me oggi farete lezione con me prendo il lavoro molto seriamente prendo il lavoro molto seriamente avete molto da imparare avete molto da imparare è l'unico modo per avere la possibilità di ottenere un buon lavoro è l'unico modo per avere la possibilità di ottenere un buon lavoro per questo motivo oggi faremo una verifica per questo motivo oggi faremo una verifica cosa faremo una verifica? cosa faremo una verifica? sì, una verifica su ciò che avete fatto durante l'ultima ora sì, una verifica su ciò che avete fatto durante l'ultima ora ma io non c'ero ma io non c'ero hai ripassato il materiale? hai ripassato il materiale? no, non ancora no, non ancora devi farlo devi farlo lo farò subito lo farò subito va bene, puoi farlo va bene, puoi farlo faremo comunque la verifica adesso faremo comunque la verifica adesso per favore per favore non lo faccia non posso prendere altri due per favore non lo faccia non posso prendere altri due avete 30 minuti il tempo inizia ora avete 30 minuti il tempo inizia ora 30 minuti dopo il tempo è scaduto consegnate subito il vostro compito il tempo è scaduto consegnate subito il vostro compito ecco il mio compito maestra Sara ecco il mio compito maestra Sara ma non hai scritto nulla ma non hai scritto nulla l'ultima ora non c'ero non potevo scrivere nulla l'ultima ora non c'ero non potevo scrivere nulla allora devo darti un due allora devo darti un due cosa un due non di nuovo cosa un due non di nuovo cosa c'è che non va Lisa perché stai piangendo cosa c'è che non va Lisa perché stai piangendo oggi ho preso un due a scuola oggi ho preso un due a scuola un altro due come è successo un altro due come è successo abbiamo fatto una verifica a sorpresa abbiamo fatto una verifica a sorpresa l'ultima ora non c'ero l'ultima ora non c'ero e il maestro Luigi ti ha dato comunque un due e il maestro Luigi ti ha dato comunque un due no era la maestra Sara no era la maestra Sara le parlerò le parlerò sì salve sono la maestra Sara sì salve sono la maestra Sara salve maestra Sara sono il signor Petrucci salve maestra Sara sono il signor Petrucci sono il padre di Lisa sono il padre di Lisa come posso aiutarla signor Petrucci come posso aiutarla signor Petrucci lisa mi ha raccontato cosa è successo oggi lisa mi ha raccontato cosa è successo oggi le ha dato un due le ha dato un due se lo merita se lo merita vorrei parlarle personalmente vorrei parlarle personalmente può venire nel mio ufficio può venire nel mio ufficio sarò lì tra dieci minuti sarò lì tra dieci minuti basta così basta così parlerò seriamente con la maestra Sara parlerò seriamente con la maestra Sara lisa non può prendere un altro due lisa non può prendere un altro due questa è la scuola di Lisa questa è la scuola di Lisa andrò nell'ufficio della maestra Sara andrò nell'ufficio della maestra Sara salve maestra Sara salve maestra Sara salve signor Petrucci è un piacere averla qui salve signor Petrucci è un piacere averla qui andrò dritto al punto andrò dritto al punto con piacere con piacere perché ha appena dato un due a Lisa perché ha appena dato un due a Lisa perché ha consegnato il compito in bianco perché ha consegnato il compito in bianco l'ultima ora non era presente l'ultima ora non era presente non mi interessa deve ripassare il materiale non mi interessa deve ripassare il materiale non crede che sia un po' troppo severa solo così Lisa imparerà la disciplina. Solo così Lisa imparerà la disciplina. Lei è troppo docile. Lei è troppo docile. Questo non è un bene per Lisa. Questo non è un bene per Lisa. Se non insegnate voi la disciplina lo farò io. Se non insegnate voi la disciplina lo farò io.